Lavorare nelle costruzioni è un lavoro decisamente pericoloso. Pericoloso sia se vogliamo costruire una casa, una villetta, un condominio, pericoloso se facciamo demolizione, scavi, pericoloso anche se lavoriamo in ambienti confinati. I pericoli sono tanti, il pericolo di caduta dall'alto, il pericolo di essere investiti nelle attività di scavo, il pericolo di subire intossicazioni se lavoro in ambienti confinati, e il pericolo di essere investiti dalle macchine sia mezzi di cantiere ma sia anche automezzi esterni se sto costruendo una strada oppure sto facendo manutenzione di una strada. Quello delle costruzioni è un settore molto pericoloso, a dirlo è lo spisa al veronese che ogni anno deve fare i conti con i numeri degli incidenti sul lavoro nei cantieri del territorio. Per questo la formazione per evitare il verificarsi di questi episodi deve partire dai ragazzi e a Verona per il settimo anno le scuole del settore delle costruzioni hanno affrontato lezioni frontali e visite in cantiere che si concluderanno domani con un convegno in gran guardia. Si iniziano dalle classi terze degli istituti tecnici, le quali fanno attività formativa di prevenzione degli infortuni e delle malattie con i medici del Spisa e poi in laboratorio presso l'ente formativo ESF CPT, fanno delle attività denominate caccia all'errore in cui vengono simulate delle situazioni di pericolo e i ragazzi devono individuarle, devono cercare di individuarle e di aggirarle, di non entrarvici. Nel progetto credono anche le organizzazioni sindacali CISL, CGL e UIL. La formazione deve essere sempre continua, non bisogna mai abbassare la guardia e dal mio punto di vista bisogna partire dalle scuole elementari a iniziare a dare la cultura sulla formazione e sulla sicurezza perché la sicurezza si deve parlare a 360 gradi, non solo la sicurezza nei cantiere ma la sicurezza anche i bambini che giocano, la sicurezza sulla strada, sull'itinere, che quelli lì ci sono tanti infortuni sul lavoro e forse si sente poco parlare.